Non ci sono interventi a favore e interventi contro? Si pone in votazione. Per favore gli scrutatori e le scrutatrici. Facciamo rapidamente, per favore. Votano solamente con delega. Per favore? Grazie. Chi è a favore dell'emendamento, alzi la delega. Ok, chi è contro? Non occorre contare. Chi è contro? Chi si astiene? Adelante, vai. Poi, posso andare avanti. Poi c'è l'articolo 14. che riguarda la segretaria nazionale, il segretario nazionale presidente. Noi aggiungeremo all'articolo 14 che il presidente nazionale del Collegio di Garanzia è invitato permanente alla segretaria nazionale. C'è bisogno di... Chi è a favore? Chi è contro? Astenuti? Approvato. Tre astenuti. Allora, io con l'emendamento ho finito. La Commissione elettorale ha discusso anche la possibilità di affrontare la quota nazionale. Lo so, no, non è un'osa di votazione. Noi presentiamo l'ordine del giorno, in modo fissiamo una percentuale diversa, fissa per quanto riguarda il pensamento nazionale. Poi decidiamo se la deve votare il congresso o il coordinamento nazionale. Questo è un altro libro. Va bene, a parte dello statuto è conclusa. Adesso possiamo passare agli ordini del giorno alle emozioni. Allora, invito i presentatori delle varie emozioni ad avvicinarsi. Per favore, abbiamo una mozione sul tema della repressione palestina. Allora, questa è una mozione, un ordine del giorno sulla Palestina. Ieri è stato molto importante che è scattato un applauso da parte di tutti i compagni e compagni e così rimane ben scritto che tutti i militanti e i delegati di questo congresso stanno da una parte e hanno le idee abbastanza chiare sulle questioni internazionali e sulla lotta dei diritti dei popoli. E forse se qualcuno che non è venuto al congresso legge questo ordine del giorno capisce anche come la pensiamo e un invito anche a tutti i delegati in ogni sede a partecipare e ad aderire alle mobilizzazioni che vengono fatte in continuazione in questi giorni a favore del popolo palestinese. Il congresso dell'Unione Inquilini esprime il massimo della solidarietà al popolo palestinese che lotta per il diritto al ritorno nella propria terra. I massacri perpetrati in questi giorni da parte dell'esercito israeliano che hanno ucciso più di 60 giovani donne e bambini e feriti più di 2000 persone sono un vero e proprio abominio. Abominio! Allora mettiamo 100 perché poi stanno sempre in aumento nei vari giorni sono più di 100 ok mettiamo 100 ci impegniamo a lottare per il diritto del popolo palestinese alla propria autodeterminazione terra, acqua, diritti al popolo palestinese sono firmato da molti delegati no scusate non è un problema solo di autodeterminazione non è che il popolo palestinese vuole ci sarebbe anche un po' di lo biondo che dice che sarebbe giusto cioè non è che solo che i palestinesi vuole però io l'ho messo semplice in maniera che non andavamo poi a disquisire su ONU, su ONU dell'Unione Europea, il nostro governo che è approvata all'Unione Europea per acclamazione non in alternativa a quella che è appena stata letta il testo dice i venti di guerra si fanno sentire sempre più forti con l'aggravarsi della crisi economica mondiale negli ultimi dieci anni è cresciuta l'aggressività delle superpotenze mondiali qualcuno sostiene che la terza guerra mondiale sia già iniziata anche se in forme diverse dal passato per rispondere alla crisi di sovrapproduzione le multinazionali puntano al controllo dei mercati per l'approvvigionamento delle materie prime e alla conquista dei mercati distribuzioni dei prodotti per i popoli del mondo la guerra è sempre una sciacura anche se la guerra guerreggiata non li coinvolge direttamente anche se deflagra in particolare guerra significa morte civili riduzione delle libertà individuali uso aggressivo dei mezzi di informazione di massa drenaggio di risorse ai fini bellici in mani di istruzioni con gravissime conseguenze a livello ecologico subalternità di intere nazioni agli interessi dei periodi imperialistici in Italia anche nel 2018 si spenderanno più di 60 milioni di euro al giorno per sostenere l'apparato militare e le missioni in Medio Oriente nonostante l'articolo 11 della Costituzione ci imponga di risolvere i conflitti internazionali con strumenti diversi della guerra è sempre più urgente rilanciare un forte movimento contro la guerra per il ritiro degli eserciti da Medio Oriente per l'uscita dell'Italia dalla Nato per la chiusura delle parti Nato italiane per l'acclamazione c'è un ordine del giorno del dipartimento internazionalista Allora, il Congresso di Unione Inquilini ribadisce l'importanza strategica dell'impegno internazionalista nella difesa del diritto ad abitare come contributo per contrastare la crisi globale e abitativa con una proposta alternativa al sistema neoliberale sul fronte del bacino del Mediterraneo attraversato al drammatico aumento delle migrazioni dal nord Africa causato da guerre e neocolonialismi sul fronte dell'Unione Europea strumento di politiche neoliberali di privatizzazione dei servizi pubblici sul fronte della solidarietà con i popoli e i governi progressisti attaccati dalle destre economiche e colpiste afferma che siamo parte di un movimento globale locale, articolato e plurale degli abitanti impegnati nella resistenza alle politiche sancite dalla nuova agenda urbana abitat che considera le città come motori di un illimitato sito urbano fondato sul partenariato pubblico-privato e l'attacco all'ambiente e ai ben comuni sottolinea l'importanza dell'apporto e dell'appoggio all'alleanza internazionale degli abitanti di cui è membro fondatore con cui condivide nella sede di Padova il coordinamento internazionale e di cui approva la gestione questo ha consentito di rispondere di informazioni, sviluppare relazioni e appoggiare campagne che hanno contribuito a far crescere l'incidenza politica dell'unione inquilina a tutti i livelli per queste ragioni il congresso impegna la nuova segreteria nazionale a formire strumenti e modalità per rendere operativi seguenti punti solidarietà internazionalista con le lotti per il diritto alla casa e contro gli sfratti anche con mobilitazioni di fronte alle ambasciate e con quei paesi che come la Repubblica Bolivariana del Venezuela e del Brasile si sono dissinti per aver strappato dalla precarietà abitativa milioni di persone con poderose politiche abitative perciò denunciamo con forza le incarcerazioni di Lula il colpo di Temer in Brasile l'ennesimo attacco delle destre colpiste in Venezuela alleati USA a caccia delle loro ricchezze affermare il rispetto e la giudiziabilità del diritto alla casa anche a livello europeo ed internazionale ricorrere alle procedure delle Nazioni Unite e dell'attrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla casa comitato d'ESC-ONU e strumenti legali corti di giustizia europea, direttive europee e l'implementazione degli strumenti paralegali tribunali internazionali degli sfratti 3. promozione di analisi e campagne per ottenere politiche abitative e pubbliche fondate sulla casa come diritto e bene comune finanziati con i fondi strutturali dell'Unione Europea con le risorse liberate dalla cancellazione del debito a essere il più di cui chiediamo l'audit facendo uscire questi capitoli di spesa dalle maglie del patto di stabilità il protocollo recentemente firmato anche dall'Unione Inquilinico per il caso è uno strumento da utilizzare ad esempio per proporre di concorrere all'attribuzione di utilizzo corretto di fondi europei per il rinnovo degli impianti di riscaldamento e produzione in ercepo di emissioni in zero per l'edilizia popolare 4. rafforzare l'impegno per un coordinamento a livello europeo del vaccino del Mediterraneo di lotta per lo sviluppo al settore abitativo sociale pubblico per il controllo del mercato locativo privato contro gli sfratti dei abitati della casa 5. rafforzare l'impegno del Dipartimento Internazionale delle sezioni dell'Unione Inquilinico la formazione degli attivisti su questo terreno organizzando un camping internazionale nell'estate del 2019 con lo scopo di favorire l'incontro di esperienze e scambio di buone trassi prodotti dai servitori presentati ai compagni del Dipartimento Internazionale sottoscritta da oltre i 20 dettagli poter venire Vincenzo Vincenzo si 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 c'è 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 allora questo ordine del giorno c'è qualcuno che volete dire il favore o contro ho provato per per acclamazione ok adelante c'è appunto quel famoso ordine del giorno c'è c'è molto sintetico e stregato è un ordine del giorno scudo non è un ordine del giorno con il nome della persona allora la questione è questa come avete visto durante il congresso sono emersi case come quello di Cesare ma anche quello di Michelangelo anche Laura Boi ci ha fatto presente eventuali rinunce eccetera eccetera riguardante che molte volte la repressione riguarda anche aspetti di natura reale allora questo è l'ordine del giorno il congresso nazionale dell'Unione Inquilini del 19 e 20 maggio 2018 valuta con estrema preoccupazione il crescere di episodi repressivi nei confronti degli attivisti dell'Unione Inquilini impegnati nelle lotte per il diritto alla casa denuncia la gravità di questi attacchi che mirano a colpire i nostri attivisti difensori dei diritti umani riconosciuti dall'Italia nell'articolo 11 del patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali ratificato con la legge numero 281 del 77 e in surroga di fronte all'inazione dei sindaci che hanno l'obbligo di soccorso a tutela della salute secondo la legge 833 del 78 rivendica la legittimità costituzionale delle lotte per il diritto alla casa e della resistenza contro la violazione di tale diritto ribaltando il concetto di legalità a senso unico che nega la giustizia sociale esprime la massima solidarietà nei confronti dei compagni e delle compagne giustamente attaccati dalla repressione così invita alla vicinanza democratica e a fare rete nel sindacato tutto e infine impegna la segreteria nazionale a denunciare puntualmente gli episodi di repressione a tutti i livelli incluso alla relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla casa e al relatore speciale delle Nazioni Unite su difensori dei diritti umani diffondere la propria solidarietà dal punto di vista mediatico e politico a livello locale e nazionale redigere specifici rapporti periodici per l'osservatorio sulla repressione costituire una cassa di resistenza per le spese legali facendo appello alle sedi e a un contributo nazionale questa è la... d'accordo sull'ordine del giorno però proprio facendo riferimento a quello che ha detto il compagno prima io direi che è proprio l'incalzare della crisi che fa aumentare in tutti gli ambiti i livelli di repressione quindi io aggiusterei un po' questo perché voglio dire nei luoghi di lavoro succede questo nella scuola succede questo nei territori i territori sono militarizzati cioè nei nostri quartieri nei quartieri popolari c'è una presenza massiccia di polizia a difesa, a tutela di obiettivi sensibili ma nei fatti sono obiettivi economici quindi voglio dire non è che siamo colpiti solo noi dall'avanzare della crisi è l'intera classe nella sua totalità con la militarizzazione dei territori e la repressione è un aspetto fondamentale, importante per chi deve riprodurre riprodurre le forme di potere quindi lo aggiusterei in pochi possiamo vedere un po' in attimo appunto grazie è approvato per acclamazione scusa abbiamo ancora un ordine del giorno che era stato presentato da Gianni Belli lo leggo io o lo vuoi venire tu? ci provo ci provi dai coraggio questo è molto molto interessante e poi non ce ne sono altri poi possiamo passare alle proposte della commissione elettorale adesso siamo stati bravi sono gli 11.50 lo spirito lo spirito è creare salario sociale creare solidarietà sociale sull'affitto quindi ho messo giù perdonare due faccioli ma il senso c'è questa la voce ragazzi al fine di costruire nuove forme di abbattimento del costo casa negli alloggi erbe e per costruire obiettivi di solidarietà sociale si rende necessaria una sperimentazione di pagamento del costo casa che non sia necessariamente il denaro che è disoccupato comunque crea sempre morosità sia nel presente che nel futuro uno strumento utile al pagamento potrebbe essere dare ore lavoro utili socialmente alla collettività per l'estinzione del pagamento dell'affitto mensile chi non ha reddito non può che dare il suo tempo in cambio della possibilità di un alloggio sempre che le forme non intacchino ovviamente la forza lavoro pubblica la sperimentazione dovrebbe partire nei municipi dove la presenza di alloggi erbe sia importante quindi è nei quartieri popolari chi non è in grado di pagare l'affitto ti ha il suo tempo per il recupero sociale dei quartieri questo è lo spirito di questo ordine del giorno grazie io sono contrario e lo dico per una missione importante se vogliamo difendere l'edilizia pubblica la dobbiamo difendere nella sua interezza il pagamento del canone sociale all'interno delle case popolari significa pagare 10-15 euro al mese ma già le leggi regionali prevedono per chi ha una morosità documentata accertata la sospensione dal pagamento del canone per 2-3 anni poi il lavoro pagato gratis per chi viene da città dove gli LSU da 30 anni sono in attesa di essere regolarizzati è una vera e propria eresia il lavoro in tutte le sue forme va rispettato e va pagato premesso che il lavoro va dignitosamente retribuito io penso di poter cogliere il senso della proposta di Belli si tratta di istituire una sorta di salario sociale dentro questo salario sociale c'è anche il costo della casa che un disoccupato chiaramente non può non può è un disoccupato di lunga data può sostenere magari attraverso accordi con le amministrazioni così come si è fatto con le tasse non pagate alcune amministrazioni hanno dato la possibilità di svolgere lavori socialmente utili per sanare in parte il proprio debito con il fisco mi sembra che il senso sia questo chiaramente quindi rivendicare la necessità che tutti abbiano un lavoro e un lavoro dignitosamente retribuito ci sono situazioni però dove l'intervento delle amministrazioni locali attraverso queste forme può ridurre e quindi non si tratta di una norma generale ma semplicemente di una possibilità a cui apriamo e che sarebbe interessante sperimentare noi abbiamo parlo di Milano insomma poi ognuno conosce bene la propria situazione quartieri dove l'amorosità è schizzata a livelli sostenibili 30-40% e forse ci sono situazioni dove con questi strumenti si può anche recuperare situazioni altrimenti irredubili questo ordine del giorno porta delle complessità notevoli porta delle complessità notevoli mi sembra che in certi congressi e anche di altre organizzazioni ci sono gli ordini del giorno che vengono non approvati ma assunti come dalla presidenza con l'impegno di approfondimento e penso che sia questa la formula non solo nostra ma diciamo quando è una questione io mentre l'ascoltavo ragionavo come poteva essere applicato e l'intervento di Mimmo mi ha mostrato delle forti preoccupazioni delle perplessità sull'applicazione concreta di queste cose la generosità dell'ordine del giorno è evidente chiaramente è condivisibile però è una novità è una novità che va approfondita come del resto vanno approfonditi gli ordini del giorno approvati sul pubblico e così via per cui io chiedo che non venga messo in votazione io credo che forse noi potremmo fermarci alla prima fase la prima frase cioè al fine costruire nuove formi di abbattimento del costo casa degli alloggi per costruire obiettivi di solidarietà si rende necessaria la sperimentazione di pagamento del costo casa che non sia necessariamente il denaro dopodiché è il secondo punto che può creare più problemi per esempio da noi l'abbiamo costruito con l'autorecupera scusate noi l'abbiamo fatto con l'autorecupera con i lavori esatto appunto appunto giustamente quindi è una forma che secondo me assolutamente non possiamo iniziare ok non possiamo la presidenza del congresso assume questo contributo di Gianni Belli Gianni certo esatto questa è la proposta della presidenza mi rendo conto che la situazione è particolare non era rinforzata per farvi un esempio Milano 28.000 alloggi delle case comunali perché in totale sono 70.000 gli inquilini hanno 350 milioni di euro di morosità a testa sono 12.500 vuol dire che qualcuno ha 150.000 euro di morosità quando non paga l'affitto allora scusate non esiste un fondo sociale non c'è più da diversi anni quindi l'unica cosa che si sta tentando di fare è pagare questi debiti in 10 anni con le rate no anche 20 anni forse l'abbiamo sperimentato quindi è chiaro che il senso è se io non ti posso pagare ma non l'affitto il costo casa le spese sono le cose più importanti perché non ho reddito una qualche forma tu comune mi devi riconoscere in qualche modo la possibilità di non avere sempre i debiti perché anche se hai il fondo sociale il giorno dopo ha lo stesso problema chiedo lavoro va bene ma nel frattempo cosa succede cioè quindi assumo l'indicazione di Simoni come impegno della segreteria della pubblica nazionale ma che non sia un impegno veramente formale perché questa è una scondizione o accettiva che si chiama salario sociale perché non c'è altro ma che in realtà per Milano sta producendo ha portato addirittura fallimento qualche anno fa a rischio di fallimento ancora c'è dell'area dell'azienda autonoma perché c'era il 50% di persone che non pagavano l'affitto quindi è una situazione non così banale ma che non c'è alternativa perché l'alternativa che non c'è qual è è il fatto che nessuno mi estingue il debito cosa mi trascino 100 mila euro di debito poi c'è lo sfratto e c'è tutto il resto quindi non è uno scherzo e Milano la città dei soldi ha prodotto questo grazie 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 per la proposta e per la disponibilità il congresso scusate si può verbalizzare il congresso assume la proposta con l'impegno per la prossima segretaria nazionale di approfondire il tema poi la sezione di Milano che già su queste cose forse non sento vai lì non me vuoi dalle spalle vai lì e parli no 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 siamo no no è la presidenza la presidenza assume la proposta di Gianni Belli con l'impegno impegnando la prossima segreteria a approfondire il tema poi la sezione di Milano ovviamente se ha interesse no assume 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 nel senso che è un no assume assume vuol dire che che andrà analizzata approfondita non è un tema banale sicuramente d'accordo assume con l'impegno tra se vedere nazionale di approfondimento valte le decisi per la commissione elettorale mi pare che ci siamo sempre bravi è mezzogiorno per dare un quadro complessivo pensiamo che sia giusto più vicino al microfono allora noi pensavamo giusto fare questo illustrare la proposta complessiva perché uno deve avere no fa pezzetto per pezzetto poi naturalmente il voto però è chiaramente blocco per pezzetto per pezzetto però è giusto che ci sia un quadro che rispetto al quadro ci possa essere una una valutazione quindi il primo punto i criteri che ci siamo dati che la commissione si è data per affrontare il tema della composizione dei nuovi organismi dirigenti e la proposta da avanzare al congresso il primo punto riguarda naturalmente la valutazione che è stata fatta rispetto al lavoro svolto in questi tre anni degli organismi dirigenti quindi presidente segretario di segreteria incarichi di lavoro nazionali che erano state dati allo scorso congresso e il collegio scusate scusate moltissimo adesso cerco di essere più bravo e incarichi il collegio nazionale di garanzia è un giudizio che naturalmente il giudizio della commissione che potrebbe che la commissione propone è un giudizio diciamo sostanzialmente molto positivo sia del lavoro svolto dal presidente e dal segretario sia diciamo rispetto alla segreteria che obiettivamente anche per le cose che venivano dette negli interventi precedenti la segreteria si unisce sostanzialmente per il tipo di struttura degli unior inquilini si unisce sostanzialmente 4-5 volte l'anno quindi il termine si chiama segreteria però diciamo funziona fondamentalmente come un organismo diciamo di direzione politica di valutazione e di indicazione politica l'operatività quotidiana è data dal rapporto tra il segretario e il presidente che sono diciamo tendenzialmente che chiaramente si consultano sempre ma sono obiettivamente diciamo così l'operatività concreta una segreteria che diciamo che era complessivamente composta tra segreteria e carichi di lavoro pacienti diciamo invitati alla segreteria di 14 tra compagni e compagni questa segreteria sostanzialmente in questi tre anni si è sempre riunita nel suo pleno ma diciamo così tendenzialmente con presenze che sono andate da 14 fino a un minimo di 11 insomma ecco diciamo quindi perché non può capitare che non c'è influenza qualcuno c'è un problema però comunque sostanzialmente diciamo positiva quindi il primo criterio che si propone che propone la commissione elettorale è quella della conferma la richiesta al congresso di conferma del segretario e del presidente uscente naturalmente non la commissione elettorale ma tutto il congresso ha ascoltato l'intervento del segretario nazionale uscente che ha detto che questa per lui la sua ultima se venisse eletto la sua disponibilità si esaurisce con la prossima con la prossima siamo con il prossimo mandato lo prendiamo anche perché è una dichiarazione che noi lo prendiamo naturalmente come logico che sia come doveroso che sia molto sul serio anzi io penso che vada almeno questo è un elemento che dico io però io penso che sia largamente condivisibile da tutti quanti è un grande segno diciamo di serietà perché chiaramente sarà lui il primo a lavorare per questi tre anni per aiutare e preparare una la sua diciamo la sua successione ecco adesso cosa questione che è stata condivisa anche altri compagni e compagni del segretario uscente hanno dato medesima disponibilità cioè diciamo indicazione rispetto al prossimo congresso e infine quindi i criteri per la indicazione del segreteria e carichina ci siamo dati questi criteri il primo criterio riguarda quello del rinnovamento di continuare sulla linea del rinnovamento noi abbiamo valutato che l'elemento più qualificante del dibattito del nostro congresso sia stato all'intervento diciamo di nuove esperienze progressive diciamo così ed emergenti dell'unione indivine diciamo secondo il titolo del nostro dibattito del terzo millennio ecco se posso positire diciamo l'intervento e la qualità dell'intervento delle compagne al al congresso e quindi questo criterio del rinnovamento che non è appunto un criterio solo anagrafico ma è un criterio che riguarda diciamo le esperienze progressive ed emergenti utili per tutta l'unione indivine il secondo punto che nella indicazione della segreteria diciamo così non c'è un criterio di rappresentanza delle sedi territoriale delle sedi naturalmente c'è una ricerca di equilibrio chiaramente di equilibrio almeno per chiamiamole così se posso dire macro regioni ecco nord ovest nord est centro sud delle isole in modo tale da dare ma non un criterio di rappresentatività che l'altra riguarda quella appunto di valorizzare le esperienze emergenti e il contributo diciamo delle compagne che le compagnie hanno dato l'ultimo l'ultimo criterio è quello come si può dire che è stato valutato nella commissione elettorale quella della innovazione nella continuità e cioè siamo in un punto diciamo di uno snodo di passaggio diciamo così adesso permetta così non diciamo di consegna di un testimone a un'altra generazione però comunque diciamo siamo in questo diciamo in qualche modo in questo momento e quindi ad alcune compagnie e compagnie che hanno proposto diciamo che la loro una richiesta di diciamo di uscire da un inicrimino perché assolutamente no ma comunque di una diversa collocazione cioè di non stare più in segrea per esempio il sottoscritto la valutazione generale è stata fatta diciamo con questo appunto la necessità di come dire di accompagnare in qualche modo un processo di innovazione e di rinnovamento due punti critici molto sai due punti critici i due punti critici so uno riguarda la questione diciamo la presenza delle compagnie e dei compagni di Napoli nella nuova nel nuovo gruppo dirigente è stato richiesto al diciamo al segretario di Napoli ci siamo incontrati per una diciamo disponibilità ad entrare nel gruppo dirigente dell'unione inquilini poi siamo nella decisione dell'autonoma delle canzioni di Napoli di chi e in quale ruolo per questo motivo perché noi pensiamo che sia giusta la piena rappresentazione del dibattito interno dell'unione inquilini dentro all'organismo dirigente non siamo un organismo che vogliamo funzionare con un sistema maggioritario per cui chi vince un voto poi comanda ma invece tutte le posizioni anche le più critiche anche le opposizioni così devono essere tutte con pari diritto rappresentate in un'organismo per me è quello di dire se posso dire che era il problema scusate perché si è fatto più grave quando non è proprio liberamente nell'unione inquilini cioè liberamente ha vari significati significa per una scelta autonoma ma anche le autonomie e la diversità delle sedie ecco tutte libere ne siamo perché hanno tutte esperienze l'unificazione non si fa per decreto ma si fa attraverso il confronto e attraverso le notte per esempio un grande momento di unificazione delle sedie che è stata l'invenzione della giornata sfratizzera del 10 ottobre che è stato un grande elemento di unificazione perché è un evento nelle notte ed è liberamente nel senso che ci basiamo sul volontariato e che ogni cosa che facciamo è pagata da noi stessi liberamente perché siamo non dogmatici ognuno con la propria testa e ognuno ha testa alta e liberamente che ci dobbiamo ci vogliamo rispettare e perché penso che ci vogliamo anche diciamo bene e perché ci e che questo diciamo per questo naturalmente non si può che prendere atto di quando il compagno di me ha già detto a me di una critica che è molto forte se io capisco che è una critica non tanto o comunque non principalmente nella linea politica ma sulla gestione dell'Unione Inquilini e sulle sue modalità di applicazione delle regole questo io naturalmente lo rispetto io personalmente lo rispetto a mio nome mio 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 io non posso far altro alle delegati e ai delegati di chiedere scusa per il fatto di non essere stata all'altezza capace di saper superare questo questo mi chiedo scusa per questa incapacità mia detto questo che continueremo così cioè che considereremo che questa apertura ci dovrà essere anche nel futuro insomma ecco che non è finita qua ecco come si può dire io chiedo scusa ma sono denace e saremo tutti quanti denaci per mantenere e per per insistere l'altro punto critico di cui ci chiediamo non io però che ci sono anche altre esperienze per gente che quindi possono non ritrovarsi ma io mi assicuro che tutte quante le seguiremo e le e questo è un passaggio vedetelo come un passaggio ci sono delle imperfezioni delle inadeguadenze delle insufficienze però che andiamo avanti ora vado le proposte i compagni della segreteria in quanto dalle oltre segreterie o presidente di cui ho già detto erano nove nella proposta diventano undici ma vorrei sottolineare a tutti quanti che già Guido mi ha detto che 310 euro erano l'altra volta 310 euro quindi pure undici bisogna portare il panino da casa oppure sarà invece che col prosciutto sarà col prosciutto quindi le proposte alla segreteria uscente che sostanzialmente viene diciamo viene proposta quindi la compagna poi il compagno Cattoli il compagno la compagna poi il compagno Cattoli il compagno Cochis il compagno Curro è un po' è un po' è un po' Curro De Cesaris Di Beo Gangeni Gangeni Longo Scarselli a questi compagni si aggiungere nella proposta si aggiungono la proposta della compagna Bottoni Madelda nuova nuova non lo so quando però segretaria della federazione di Venezia perché comunque è stato valutato come al di là del valore simbolico della città di Venezia dell'Italia ma anche diciamo rispetto al tema del nord-est e della possibilità diciamo di il gruppo di Mugini e il compagno di Curci Fabrizio è il nuovo segretario della federazione di Roma perché sia per quello che rappresenta questa federazione ma anche perché diciamo è la prima esperienza di un giovane di un quasi quarantenne che si è diciamo un ragazzo che è stato fatto e la più grande diciamo più grande come valore politico ma la più grande la più numerosa ancora delle federazioni della nostra dell'Unione infine l'altra cosa riguarda gli incarichi di lavoro allora nello statuto non c'è scritto che gli incarichi di lavoro nazionali specifici vengano affidati dal congresso per esempio anche rispetto al tesore di Roma c'è scritto che è la segreteria che è il tesore ma noi abbiamo rilevuto che sia più giusto che il congresso prenda diciamo voti che sia per dare un maggiore più responsabilizzabile e anche per rendere più edotto tutto quanto quindi più coinvolto tutte quante le compagnie e i compagni noi pensiamo a quattro incarichi di lavoro diciamo così uno riguarda due sono una ripetizione perché fa parte del giudizio che davvero uno riguarda il compagno Lanciano come tesoriere uno riguarda il compagno Tolinco per diciamo come per gli est inizio noi vogliamo fare nuovi incarichi di lavoro uno per la compagna Luzi Silvia che è la compagna per la comunicazione nazionale il lavoro che ha fatto qui ma perché pensiamo che il tema della comunicazione sia strategico rispetto al sviluppo e poi delle sue capacità diciamo e l'altro che effettivamente innovativo così che alcuni di questi incarichi scusate cioè noi non avevamo il foglietto già preparato onestamente noi il primo giorno che in andici siamo detti ascoltiamo il dibattito alcune delle proposte sono state avanzate sono state avanzate rispetto al dibattito che c'è stato e alla ricchezza e quindi proponiamo che la giovane compagna Cassano Delis sia diciamo abbia una responsabilità rispetto agli studenti ad aprire questo diciamo settore di lavoro che è stato che è stato e quindi è stato un'altra cosa che è stato che è stato questa persona che è scendere possono anche essere dieci dalla stessa città perché ha questo senso per il collegio di garanzia noi proponiamo la compagna Marano Cleria di Messina che ha fatto il pronto Cleria il compagno Ribac Aurelio che è la compagno Ribac del Perugia che tutti conosciamo il compagno Piero Pierri perché comunque il collegio di garanzia ha una competenza specifica e diciamo diversa e necessaria vogliamo indicare anche qui rispetto a una innovazione per la prima volta un punto diciamo così tra virgolette tra virgolette dell'unico di unico di unico di una compagna quindi vorremmo indicare la compagna Marano Cleria come il presidente del collegio di garanzia sono stato un po' sorpreso perché scusate qui la mia ignoranza non sapevo che dovevamo anche nominare due supplenti perché questo mi era e quindi sono totalmente impreparato ma dato che comunque il collegio di garanzia ti ha verità bisogna sempre essere pronti perché possa funzionare però diciamo tendenzialmente quindi io io dico il compagno di Salvo e Petrucci perché adesso li vedo là sono avvocati però sanno che sono supplenti quindi diciamo il loro quinto riguardo la delegazione alla CUP noi proponiamo che noi per adesso ci dicono che abbiamo diritto ad avere un coordinatore tra i coordinatori nazionali e due membri del coordinamento poi noi proponiamo che il coordinatore del coordinamento nazionale sia il segretario nazionale qui ci si vada per funzione diciamo così e poi di proporre il coordinamento il compagno Gianni Pelli il compagno Cirinesi Michele di Bologna dove si è diciamo di nuovo insediata in maniera diciamo molto forte produttiva la comunione inquilini qualora Cirinesi Michele e Fuxi qualora ci venisse l'indicazione dei nuovi compagni da assegnare diciamo alla CUP noi li valuteremo perché pare che ci dicano che visto il dibattito che c'è stato l'importanza degli inquilini che avremo una rappresentanza più alta quando ce l'avremo noi andiamo avanti infine l'ultima cosa riguarda la decisione che è venuta nel dibattito su questo nel dibattito ci sono stati opinioni differenti ci sono stati opinioni differenti quindi questa cosa evidentemente si voterà però noi proponiamo che il portavoce nazionale della CUP sia invitato alle riunioni della segreteria nazionale detto questo la formula che noi vorremmo proporre ma è una forma scusate il bizantinismo perché siamo di soggetto invitato cioè nel senso che potrebbe esserci una sottile differenza tra invitato permanente e soggetto invitato cioè nel senso di lasciare quella discrezionalità che se una volta dobbiamo discutere solo della questione interna interna che forse si può valutare poco opportuno così si valuterà che non è obbligatorio diciamo e sarà il segreto il presidente il segretario che valuteranno così quindi facciamo questa scusate questa bizantina distinzione tra invitato permanente e soggetto invitato per indicare questa utilità che questo possa superare l'obiezione che alcuni compagni hanno quindi brevissimo riepilogo avremo una segretaria nazionale composta dal segretario del presidente più 11 compagni e quindi sono due in più più 4 compagni più 4 unitari di lavoro invitati più la garanzia in tutto fanno 18 compagni invece che 14 prima avevamo due compagni su 14 e adesso abbiamo 6 compagni su 18 naturalmente facciamo un passo diciamo abbastanza significativo triplicando questo tipo di esperienza i compagni che stanno tra i 20 e i 40 anni diciamo così che diciamo rappresentano sempre con questo slogan un po' così le esperienze del terzo millennio oppure dell'ultimo dell'ultima del terzo millennio perché mai questo terzo millennio è così io ho dato un po' di ciotto ma no sono 3 su erano 3 su 14 adesso diventano 9 su 18 quindi facciamo un passaggio di innovazione di rinnovare il fine è il metodo di votazione perché è un po' complesso noi proponiamo alla presidenza questo metodo però io non so se è giusto o non è giusto primo si deve votare il segretario secondo si deve votare il presidente questi voti sono per forza singoli e poi la proposta è che la segreteria la proposta di segreteria venga votata collettivamente e terzo voto poi che venga votato il presidente del collegio di garanzia perché penso immagino che sulla base della modifica dello statuto debba essere fatto così quinto si vota la garanzia settimo si votano sesto si votano incarichi di lavoro così però la mia proposta è che si vota il tesoriere a parte perché il tesoriere è una versione quasi di garanzia e gli altri incarichi di lavoro si votano collettivamente settimo che si vota la delegazione a CUP ottavo che si vota l'invito al portavoce della CUP come soggetto invitato questione che si deve secondo la nostra opinione votare separatamente essendoci stato esplicitamente nel dibattito congressuale espresse opinioni grazie 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 scusatemi è soltanto un mio errore di lettura ma i numeri complessivi corrispondono a quello che vi ho detto perché io così ve l'ho detto uno di meno ovviamente nella riposizione faccio Walter Rapattoni scusatemi scusatemi mi scuso Walter prima non volevo non volevo scusatemi no no si chiede si chiede si chiede chi noi invitiamo il portavoce con il portavoce di anche il liderazzo scusate la presidenza ci siamo ci siamo consultati rapidamente la presidenza è d'accordo di votare con la metodologia proposta scusa Walter intanto gli scrutatori comincino ad attivarsi e i delegati si 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 un secondo un secondo perfetto intanto la commissione Walter la commissione accetta la proposta di metodo di votazione che avete fatto la presidenza la presidenza adesso possiamo possiamo intervenire certo però possiamo allora interveniamo su ok vai allora noi ringraziamo ehm ehm chi ha partecipato a questa commissione come delegazione di Napoli ehm non accettiamo nessun incarico all'interno della segreteria nazionale voteremo contro naturalmente il segretario e il presidente che è stato eh proposto e voteremo contro anche ehm il resto ehm delle delle proposte interessante poi sarà anche studiare la composizione regionale di chi andrà a rappresentare l'unione in linea a livello nazionale perché questa è anche una componente importante molto onore di dire grazie a me comunque vi invito a tutti i delegati il presidente di Napoli di votare secondo la proposta di ehm che è stata assunta dalla presidenza Walter se puoi passare al primo alla prima proposta di votazione riguardo scusate proprio per l'errore che ho fatto prima nel 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 praticamente volevo annunciare al congresso che le esperienze diciamo così eh quindi sotto i 40 anni le esperienze così sono in maggioranza perché quindi naturalmente l'obiezione che fa Mimmo è assolutamente rispettabile voglio solo segnalare che rispetto alla precedente proposizione la presenza del 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 sud è diciamo aumentata rispetto a prima e e poi diciamo così purtroppo perché poi purtroppo la è diciamo è come si farebbe scusa ma sarebbe stata ma io credo che mi importante più importante stiamo nella stessa stiamo nella stessa notta Walter poi puoi fare la proposta passiamo alla prima cosa vedete segretario il primo che si vota è il segretario nazionale per favore gli scusatori tenete la delega in mano perché possono votare solo gli scusatori qui è abbastanza delicato solamente con contate per favore scusatori contate solamente chi ha la delega in mano per favore allora siamo pronti scusatori siete pronti c'è qualche delegato fuori siamo tutti seduti scusatori scusatori siete pronti allora viene posta in votazione la proposta della commissione elettorale che Massimo Pasquini sia confermato segretario nazionale dell'Unione chi è a favore anzi la delega contate c'è qualche compagno ancora fuori siamo alla votazione della segretaria nazionale chi ha vinto il giro d'Italia Franco non può più entrare quando avete terminato vi avvicinate a Guido comunicate il dato se avete terminato potete abbassare certo e vi avvicinate e comunicate il dato grazie chi è contro a questa proposta alza la delega vota solamente l'indelega ovviamente contate per favore avete andato tutti si? chi si astiene chi si astiene scusate chi si astiene anzi la delega chi si astiene anzi la delega abbiamo un astenuto due no uno uno scusate scusate sia i favori che contro che gli astenuti votano solamente i presenti i presenti e chi ha la delega d'accordo a scaso di malintesa scusate gli scrutatori gli scrutatori hanno contato la delega o non l'hanno contata? no 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 si parla in generale ma porca ma porca ma docina grazie cazzo se fate i conti così il mio viere c'è anche a vestire allora la proposta di Eger e di confermare Massimo Pasquini segretario nazionale il mio viere c'è stato approvata con 75 voti e il mio viere c'è stato approvata con 75 voti non c'è nessun problema non c'è nessun problema c'è chi alza alter per favore abbiamo la proposta del presidente del presidente si vota adesso il presidente per favore si vota adesso il presidente nazionale invito di nuovo invito di nuovo i compagni e le compagni se non avete il cartellino per favore per favore chi è presente vota ma solo se ha il cartellino se non ce l'ha mi dispiace se lo fa dare non lo serve possiamo votare allora la commissione elettorale propone la conferma di Vincenzo Simoni presidente nazionale dell'Unione Inquilini chi è a favore alzi la delega i giustatori siano un po' più veloci di prima grazie e il pallottoliere vedrete che sarà più bisogna chiamare il maestro Manzi e sostituirlo alla presidenza non è mai troppo tardi c'ho il crampo del tenista il mio crampo del tenista è rigido il crampo del tenista Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.